Tornando sul discorso di Milano, non è troppo tardi il fatto che il centrodestra non abbia ancora un candidato sindaco? Ma no, c'è tempo. Credo che adesso decideranno, mi sembra che siano vicini alla decisione. La campagna elettorale inizierà tra qualche giorno, ma soprattutto si concentrerà, io credo, in settembre.